Io venivo a Fossoli con la carriola o la bicicletta delle volte se c'era la bicicletta e li vidivi lungo la strada se c'era il fosso con le piante c'erano di quelle che erano appesi lì e quando riuscivo a avere un peccettino di pane andavo a portarlo ai prisionieri la ce lo buttavo e loro poverini mi buttavano o la maglia o le scarpe erano momenti che cercavano di aiutare uno o l'altro un peccettino di pane a te un peccettino di pane a lui però si faceva come si poteva in tempo di guerra cosa brutta c'è tante cose brutte ci sono tante cose brutte tante cose brutte che non le dimentichi però sono anche brutte da ricordare